Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra miniserie estiva dedicata alla creazione dell'impero coloniale italiano. È una miniserie in cui racconteremo, lo abbiamo già anticipato, proprio come l'Italia abbia creato il suo impero coloniale, come l'abbia espanso e poi racconteremo ovviamente anche come l'ha perduto nella Seconda Guerra Mondiale. Nella scorsa puntata, la prima, trovata ovviamente in descrizione nella playlist di questa miniserie, abbiamo raccontato di un'occasione mancata, di come l'Italia si avesse messo gli occhi sulla Tunisia, che dopo tutto è il pezzo d'Africa, l'embo d'Africa più vicino alle coste italiane, avesse fatto investimenti, ma come alla fine se lo fosse fatto letteralmente scippare da sotto gli occhi dalla Francia, che nel 1881 aveva assestato all'Italia quello che passerà alla storia come lo schiaffo di Tunisi. In questa puntata invece ci sposteremo un po' avanti e indietro nel tempo per capire come realmente nacque l'impero italiano. Un impero coloniale che nascerà, lo vedrete, da una regione piccolissima, ne parleremo in questa puntata, e progressivamente andrà ad espandersi attraverso una serie di tentativi più o meno riusciti, di occasioni mancate, ma soprattutto di tanta tanta diplomazia. Quella diplomazia e anche un po' di fortuna che assolutamente serviva in un mondo di grandi potenze che si stavano spartendo il globo, a cominciare dall'Africa, per permettere all'Italia, che con quelle grandi potenze dal punto di vista economico non poteva in quel momento competere, di ritagliarsi il proprio piccolo, piccolo spazio al sole africano. Ne parleremo in questa puntata e poi ovviamente continueremo la storia nelle prossime. Quindi, se non volete perdervele e non lo siete già, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a parlare delle prime colonie italiane in Eritrea e in Somalia. Esiste un'epoca della storia umana che è chiamata l'età dell'imperialismo. È un'epoca molto breve in realtà, che grossomodo va dal 1883, diciamo 1880, anticipiamo di qualche anno, insomma, dal congresso di Berlino fino al 1913-1914, un periodo molto breve di anni, in cui letteralmente le potenze europee si spartirono tre continenti, l'Africa, l'Asia e, se vogliamo, l'Oceania. Queste potenze europee in pochissimo tempo estesero il loro controllo su uno spazio immenso, su una quantità di popolazioni enormi, molto più grandi rispetto a quelle che vivevano ovviamente all'interno dello Stato in Europa, e su una quantità di risorse che resero l'Europa per quegli anni il vero centro economico mondiale. È un'epoca di conquiste, di razzie, di espansione, un'epoca in cui l'Europa letteralmente considerò una più di metà del mondo come un territorio vergine da conquistare. E i pochi Stati che riuscirono a sopravvivere a quest'invasione, e sto parlando principalmente della Cina e del Giappone, lo fecero un po' per fortuna, ma comunque dovendosi piegare alla volontà comunque degli Stati europei. Non vennero magari occupati, ma dovettero comunque piegarsi alla volontà europea. Quest'età, ovviamente però, non nasce dal nulla. Questo bisogna metterlo chiaro. Non è che nel 1880 l'Europa se ne stava buona buonina nel suo angolo, e nel 1913 aveva conquistato il mondo. Assolutamente no. Nel 1880 degli imperi già esistevano. Non dimentichiamocelo, l'espansione coloniale era iniziata nel XV secolo. Esisteva già l'impero inglese, che nel 1880 era già l'impero più esteso al mondo, anche se aveva perso un secolo prima gli Stati Uniti d'America, le 13 colonie, ma rimaneva l'impero più esteso in tutto il mondo. C'era l'impero francese, che era molto più piccolo, ma aveva iniziato a espandersi con l'Algeria, e poi, l'abbiamo già detto, con la Tunisia. C'erano ancora due vecchi, tra virgolette, imperi. L'impero spagnolo, che si stava disgregando, aveva già perso quasi completamente le Americhe, per la fine del secolo sarà quasi scomparso, e l'impero portoghese, che invece rimarrà nella sua piccola bolla. E poi c'era il Belgio in Congo, e così via. Tutti questi Stati, però, dal 1880 in poi, iniziarono a trasformare quello che era il controllo, principalmente su alcune zone, su alcuni porti importanti per il commercio, un controllo che era principalmente economico-commerciale, inizieranno a trasformarlo in un vero e proprio controllo politico, dividendosi, letteralmente, prendendo le cartine e mettendoli su un tavolo, dividendosi l'Africa e l'Asia, in una spartizione talmente furiosa, talmente veloce, che passerà la storia con un termine inglese, Scramble for Africa. Cioè, proprio una lotta confusa per l'Africa, una spartizione quasi un po' violenta. In tutta questa situazione, però, l'Italia come ci entrava? Beh, in realtà l'Italia ci entrava malissimo in questa situazione, perché nel 1880 l'Italia, dal punto di vista economico, politico, diplomatico, era sì, forse considerata già una delle grandi potenze del continente, ma era sicuramente la grande potenza più povera e soprattutto meno considerata. Dal punto di vista economico eravamo un mezzo disastro, l'economia italiana doveva ancora crescere, fate conto che il nostro prodotto interno lordo era un cinquantesimo rispetto a quello della Gran Bretagna. Immaginatevi i rapporti dimensionali. Appena il 18% della popolazione italiana era impiegato nell'industria, e per industria si intende qualunque cosa fatta con le mani, anche l'artigianato, anche le piccole aziende artigianali, tutto il resto era quasi tutto impegnato nell'agricoltura, anche qua, rendetevi conto di quanto poco era sviluppato. Inoltre c'era molta poca volontà politica da parte di molti partiti politici di, in qualche modo, spingersi verso le colonie. Anzi, molti esponenti politici dicevano che l'Italia non avrebbe dovuto investire nelle colonie, non avrebbe dovuto cercare di ritagliarsi il suo posto in Africa, perché, e sono parole loro, l'Africa, l'Italia, già ce l'aveva in casa. E ovviamente ci si riferiva al meridione d'Italia, una zona che già prima dell'unità, non me ne vogliano i neoborbonici, era più arretrata dal punto di vista economico rispetto al centro-norde, ma che dopo l'unità, a causa di politiche economiche che avevano principalmente favorito proprio l'industria del nord, aveva visto questo divario accrescere tantissimo, con il risultato di essere rimasta molto, molto indietro dal punto di vista economico. Non dimentichiamoci inoltre, e l'abbiamo visto soprattutto nella scorsa puntata con la conquista francese della Tunisia, che l'Italia in quegli anni, dal punto di vista diplomatico, era quasi completamente isolata, perché non aveva ancora l'alleanza con la Germania e l'Austria-Ungheria, ma dall'altra parte aveva già perso l'alleanza con la sua alleata storica, cioè la Francia. Insomma, una situazione molto complicata, in cui tutto sembrava poter fare l'Italia, piuttosto che di conquistarsi un impero coloniale. Eppure in Italia all'epoca qualcuno che parlava di colonie già c'era, e a e per l'epoca intendo in realtà già gli anni immediatamente successivi a 1861 era l'unità d'Italia, quando tutto sembrava poter fare piuttosto che investire soldi in queste faccende. Chi era che già parlava di colonie? Beh, in effetti c'erano vari movimenti che lo facevano. C'erano innanzitutto dei movimenti di tipo economico, perché in Italia c'erano molte società private che erano convinte della necessità di raccogliere delle colonie. Queste colonie erano intese in due modi, o come degli scali commerciali, fondamentali per aprire l'Italia al commercio col resto del mondo, oppure come delle vere e proprie colonie di conquista da cui poter depredare, o quantomeno produrre, delle risorse per l'industria italiana. Perché gli scali commerciali erano così importanti per l'Italia? Beh, perché nel 1869 viene aperto il canale di Suez, e il canale di Suez a tutti gli effetti rivoluziona completamente il commercio mondiale. Ora, il commercio mondiale all'epoca andava molto dall'Europa verso l'Asia, e ovviamente questo commercio passava normalmente attraverso l'Africa, che veniva circunnavigata. L'apertura del canale di Suez, invece, aprì una strada molto più rapida per andare verso l'Asia, verso l'India, verso la Cina, e per la prima volta, dopo secoli, restituì al Mediterraneo la sua centralità. E quale stato c'era al centro del Mediterraneo? L'Italia. Molte aziende italiane, società di navigazione, erano convinte che se l'Italia si fosse creata delle sue colonie, in Africa, in Nordafrica, o comunque sulla rotta verso le Indie, da quelle colonie avrebbero potuto avere grande, grande ricchezza. Ora, non è che l'Italia non considerasse proprio per niente queste colonie. In realtà, dopo l'unità d'Italia, erano iniziate anche a livello politico, seppur sempre molto sotto traccia delle discussioni su quali potessero essere le colonie su cui l'Italia poteva mettere gli occhi. C'erano state varie proposte, alcune credibili, altre assolutamente impossibili. Qualcuno aveva parlato di comprare le Antille danesi, le piccole isole nel centro America, per farle una colonia penale, ma poi non se ne era fatto niente. Qualcuno aveva proposto di conquistare l'Embi di Nordafrica, la Tunisia, abbiamo visto come era andata, la Libia, ne parliamo tra poco. Qualcun altro invece addirittura aveva detto di spandersi in Congo, nel centro dell'Africa, qualcuno di andare in Asia. C'erano stati addirittura dei sondaggi per conquistare l'isola di Sumatra. Insomma, tutte proiezioni di potenza che all'epoca d'Italia assolutamente non si poteva permettere nella realtà. Esistevano però delle possibilità più vicine. Come vi dicevo, innanzitutto c'era il Nordafrica. Il Nordafrica era ovviamente il punto più facile da cui iniziare una colonizzazione. Si trovava proprio al di là del Mediterraneo. Anzi, l'Italia era probabilmente lo stato più vicino a molti degli stati nordafricani più importanti. Il problema è che il Nordafrica era considerato molto importante da tante, grandi potenze. Innanzitutto dalla Francia, che nel 1830 aveva occupato l'Algeria e che poi nel 1881 occuperà la Tunisia, strappandola alle nostre mezzi idee di conquistarla noi. E poi c'era l'Inghilterra, che quando la Francia conquistò la Tunisia decise di parare il colpo, anche perché temeva in qualche modo riflessi sul canale di Suez, conquistando invece il controllo dell'Egitto, che nel 1881 venne proprio conquistato dopo una rivolta dall'Inghilterra. Ora, in quella conquista l'Inghilterra aveva anche offerto all'Italia una partecipazione, promettendogli probabilmente di poter avere qualche porto egiziano nel Mar Rosso, ma l'Italia si era tirata indietro e il risultato era che non solo l'Egitto era stato conquistato dall'Inghilterra, ma che poi ovviamente l'Inghilterra non aveva in nessun modo appoggiato l'Italia, quando questa, in maniera molto, molto tiepida, aveva iniziato a fare delle rivendicazioni sull'ultimo spazio di Nordafrica rimasto libero, cioè la Libia. Ora, la Libia all'epoca faceva parte dell'Impero Ottomano, quindi conquistarla non avrebbe voluto dire solo battersi contro degli stati poco evoluti. L'esercito ottomano forse era inferiore a quello italiano, ma rimaneva un esercito combattivo e alterare la situazione mediterranea avrebbe necessitato di rapporti diplomatici che l'Italia all'epoca non aveva, e il risultato fu che la Libia per ora fu messa da parte. Esisteva però un'altra zona su cui l'Italia da tempo aveva delle mire. Non solo aveva delle mire, ma era una zona che gli italiani avevano in realtà già esplorato in lungo e largo, ovviamente non su mandato dello Stato, ma su mandati privati. Perché ci dimentichiamo una cosa, che la seconda metà del XIX secolo non è solo l'epoca dell'imperialismo in cui gli europei conquistano l'Africa, ma è soprattutto un'epoca di grandi esplorazioni in cui uomini e donne coraggiosi, principalmente uomini in effetti, esplorarono in lungo e in largo l'Africa e l'Asia. Alla ricerca delle sorgenti del Nilo, alla ricerca di nuove ricchezze, semplice curiosità, l'Africa venne esplorata e per esplorare vuole anche dire che vennero presi contatti con tante popolazioni. Il colonialismo nasce in maniera militare, ma nasce soprattutto dai contatti con queste popolazioni. Gli italiani avevano partecipato a queste esplorazioni. Talvolta l'avevano fatto per conto di società italiane, talvolta l'avevano fatto per conto del governo italiano, molto più spesso l'avevano fatto per conto di altri governi, francesi, inglesi, ma i loro racconti avevano ovviamente acceso la fantasia di tanti, anche in Italia, dove leggendole ci si era resi conto che in effetti c'erano delle terre che per l'Italia potevano essere interessanti. La terra su cui, fin dall'apertura del canale di Suez, gli italiani iniziarono a mettere i loro occhi, fu il cosiddetto Corno d'Africa. Cos'è il Corno d'Africa? Lo vedete qui a fianco. È la cosiddetta Africa orientale, cioè quella parte di Africa che si affaccia proprio sul Mar Rosso, che attualmente è compresa nei territori dell'Etiopia, della Somalia, dell'Eritrea e di Djibouti, e forse un pezzettino ancora del Sudan. Nel 1880 quel territorio era ancora praticamente quasi libero. Gli inglesi avevano stabilito una loro base in una parte nord della Somalia, i francesi avevano la base di Obok, in quello che poi diventerà appunto il territorio del Djibouti, ma tutto il resto del territorio era praticamente libero, con le coste che erano formalmente sotto il controllo dell'Egitto, e la parte centrale che invece faceva parte dell'Etiopia. L'Italia in quella zona, in realtà, i suoi occhi li aveva già messi da tempo. Li aveva messi fin dal 1869. Nel 1869, infatti, l'Italia aveva compiuto il suo primo tentativo di crearsi una colonia. Una colonia molto piccola, una baia. Una baia in un territorio che all'epoca faceva sotto controllo egiziano, che oggi fa parte dello stato dell'Etiopia, la Baia di Assab. Vedete qui a fianco, sulla cartina. Ora, l'Italia all'epoca non aveva intenzione di apparire come uno stato coloniale. Un po' perché la politica interna ancora non lo permetteva. Anzi, la maggior parte dei politici erano dell'idea che l'Italia, che era nata liberandosi da un'oppressione, non potesse andare a opprimere altri popoli. Ma questo, negli ultimi vent'anni del XIX secolo, sarà completamente dimenticato. Ma soprattutto perché l'Italia non voleva in qualche modo allarmare le altre potenze, perché era in un periodo ancora di forte debolezza, anche solo dal punto di vista militare, e si temevano contraccolpi. Per questo si decise sostanzialmente di creare una specie di colonia mascherata. Come? Si prese una società privata, una società di navigazione, la Rubattino. La Rubattino è una società che nella storia d'Italia entra in tanti modi. L'abbiamo citata per la Tunisia. Tutti la conoscono perché due navi della società Rubattino furono rubate, tra virgolette più facilmente consegnate in cambio di un lauto pagamento, a Garibaldi e ai suoi mille per lo sbarco in Sicilia. Era una società che viveva di alti e bassi, debiti profondissimi, che erano stati in parte anche ripagati grazie alle navi di Garibaldi, quindi apertura di rotte molto spesso finanziate dallo Stato italiano, e per molto tempo proprio questa situazione debitoria della società permise allo Stato di utilizzarla quasi come fosse una società pubblica, garantendone i debiti e utilizzandola laddove aveva bisogno di agire in maniera un po' coperta. Nel 1869 quindi decisero di intervenire proprio su quella zona, e lo fecero tramite la società Rubattino. A gestire la situazione fu un esploratore, Giuseppe Sapeto, che aveva già viaggiato in lungo e in largo nella zona, e che, soprattutto, aveva già preso contatti con molti dei potentati locali. Ora, il territorio della zona su cui sorgeva la Baia di Assab, sulla carta, faceva parte dei territori dell'Egitto, ma questo solo sulla carta, perché in realtà i signori locali agivano quasi in completa autonomia, senza che gli egiziani avessero un grosso controllo, si limitavano a pagare un tributo e lì si fermavano. Sapeto prese controllo proprio con due sultani, due fratelli, che gestivano la zona di Assab dal vicino villaggio di Reita, e, una volta preso contatto con loro, propose di acquistare proprio la Baia, un piccolo lembo di territorio lungo 6 km e profondo 6 km, quindi uno spazio molto limitato. I due sultani accettarono, chiedendo un pagamento, ovviamente, in cambio, che sarebbe dovuto essere di 6.000 talleri di Maria Teresa, che, grosso modo, erano 31.000 lire dell'epoca, che, rapportati in euro di oggi, sono circa 130-140.000 euro. Insomma, un prezzo relativamente convenuto. Pensate che lo Stato italiano aveva in realtà stanziato 80.000 lire, quindi quasi tre volte. Fortunatamente non furono tanto esosi. L'acquisto della Baia in realtà non fu facilissimo, perché Sapeto, dopo aver ottenuto la proposta, dovete tornare in Italia dalla società Rubattino, la società dovette farsi dare i soldi dallo Stato, l'idea da Sapeto, che l'anno successivo, nel 1870, tornò ad Assab. Comprò il pezzo di terra, dopo aver anche discusso con i due sultani che avevano cambiato idea, volevano essere pagati in sterline, insomma, una storia abbastanza lunga e quasi divertente, e una volta, finalmente, acquistata la Baia, arrivarono due navi italiane, una commerciale della società Rubattino e una piccola nave militare, spararono 20 salve di cannone per festeggiare, innalzarono la bandiera italiana, costruirono una piccola casupola, che avrebbe dovuto essere un edificio per il console, ma in cui non vi rimase nessuno, e dichiararono la Baia di Assab territorio italiano. Quanto durò quella prima colonia? Quattro giorni. Perché quattro giorni dopo, le navi italiane se ne andarono poi subito, quella commerciale della Rubattino andò verso l'India, l'altra tornò verso l'Italia, quattro giorni dopo, arrivarono i soldati egiziani, che avevano saputo della spedizione italiana, non avevano nessuna intenzione di vedere un'altra colonia europea in un territorio loro, quindi arrivarono, abbatterono la bandiera, buttarono giù la casa, nel dubbio bastonarono i due sultani per quello che avevano fatto, e se ne tornarono a casa. E per dieci anni, la Baia di Assab, l'Italia se ne dimenticò. In realtà, come avete visto, era un po' un gioco delle parti. L'Italia aveva avanzato una pretesa sulla zona, la Rubattino aveva ottenuto qualche soldo, insomma tutti erano contenti. Come vi dicevo, passarono dieci anni. Nel 1879, improvvisamente, Rubattino decise di riaccendere i riflettori sulla zona, e lo fece facendo pubblicare una serie di libri proprio da sapeto su quello che era avvenuto nel 1869 per riaccendere la curiosità degli italiani. Inizialmente la cosa non portò a molto, fino a quando Rubattino non decise, di nuovo con l'appoggio dello Stato italiano, di nuovamente raggiungere Assab e di nuovo innalzare la bandiera. Ancora una volta sarà una presenza molto effimera, almeno fino al 1882. Che cosa cambiò nel 1882? Perché questa volta quella conquista durò? Beh, era cambiata la situazione internazionale. Come vi ho detto, l'Egitto era stato occupato dall'Inghilterra, che l'aveva trasformato sostanzialmente in un proprio protettorato. L'Inghilterra, una volta conquistato l'Egitto, ovviamente cercò di espandersi nella zona, ma si trovò ben presto a fare, ad avere molti problemi con i territori più meridionali dell'Egitto, cioè grossomodo con l'attuale Sudan, un territorio che si era ben presto ribellato alla nuova situazione, in rivolta di tipo religioso, militare, la cosiddetta rivolta del Madi, e una volta ribellatisi era riuscito addirittura a sconfiggere un esercito inglese, nell'assegno di Khartoum, l'esercito guidato dal generale Gordon, a massacrare gli inglesi e a conquistare la sua autonomia. Nelle cosiddette, appunto, guerre del Madi, di cui peraltro abbiamo parlato in una vecchia serie, ve la metto in descrizione. A questo punto l'Inghilterra si trovò in difficoltà. Si trovava da una parte, necessitava di truppe per poter intervenire nel Sudan e in qualche modo riprendere il controllo. Ci metterà molti anni a farlo. Dall'altra parte però temeva che questo suo concentrarsi sull'Egitto avrebbe lasciato campo libero ad altre potenze per espandersi proprio nel corno d'Africa. Abbiamo già parlato della Francia, che era a Djibouti, ma anche la Germania stava iniziando a sondare un po' il territorio e ad avanzare pretese. Gli inglesi non avevano in quel momento possibilità di intervenire e loro ebbero un'idea. Se non potevano intervenire loro, potevano far sì che una potenza minore che probabilmente non avrebbe in nessun modo potuto disturbarli, lo facesse al loro posto. E così, nel 1882, gli inglesi, probabilmente loro per primi, contattarono gli italiani e gli proposero l'appoggio per stabilire finalmente una vera e propria colonia dello Stato ad Assab. L'appoggio inglese fu in effetti fondamentale. Le truppe italiane raggiunsero nuovamente Assab, questa volta sbarcarono, lì si fermarono, espandettero anche un po' il dominio della colonia che crebbe nei mesi successivi fino a raggiungere quasi una sessantina di chilometri lungo la costa e questa volta non vennero in nessun modo fermati dagli egiziani. Gli inglesi avevano fatto il loro lavoro, inviati inglesi erano sbarcati insieme agli italiani, avevano preso contatti con i capi locali, gli avevano fatto capire che ora sarebbero stati gli italiani a governare quella zona e avevano convinto gli egiziani a non intervenire. Insomma, quel primo nucleo coloniale italiano nasceva anche grazie agli inglesi, tant'è che qualcuno dice che il colonialismo italiano altro non è che un accidente del colonialismo dell'Inghilterra. L'Italia fu probabilmente molto brava ad approfittare di questa situazione e ne continuerà a approfittare anche negli anni successivi, perché nel 1884 a gennaio avvenne il massacro del generale Gordon a Khartoum, quindi la perdita del Sudane, e dato che gli inglesi temevano che questa ribellione potesse in qualche modo espandersi anche verso la costa, proposero agli italiani di ripetere la cosa un po' più a nord, di sbarcare e di occupare in uno dei principali porti proprio nella zona dell'Eritrea, cioè la cittadina di Massawa. Nel 1885, utilizzando come scusa l'uccisione di un esploratore italiano, Rodolfo Bianchi, gli italiani sbarcarono 800 soldati proprio a Massawa e, senza praticamente sparare un colpo contro gli egiziani che si ritirarono su richiesta inglese, occuparono la città e nei mesi successivi allargarono la colonia proprio dalla Baia di Assab fino a Massawa. Così, nel 1885, nacque la cosiddetta colonia primigenia che venne chiamata proprio colonia di Eritrea, un termine che si riferiva a un antico nome del Mar Rosso perché Eritro in inglese, in inglese, scusa, in greco vuol dire proprio rosso. Ad ogni modo, quella prima colonia negli anni successivi si espanderà. Si espanderà prima grazie alla diplomazia, grazie al militare e poi entrando in conflitto con l'impero d'Etiopia. Ma di questo e dei primi contatti con l'impero d'Etiopia ne parleremo nella prossima puntata in cui racconteremo la cosiddetta guerra d'Eritrea. Ad ogni modo, questi primi insediamenti in Eritrea furono, come vi dicevo, la prima colonia, ma negli stessi anni nasceva anche la seconda colonia italiana che nasceva nella stessa zona solo un po' più a sud, cioè nella zona della Somalia. Vedete qua sulla cartina, quella che vedete sulla cartina è la Somalia moderna, peraltro è uno dei territori più poveri e in questo momento più compessi dal punto di vista politico del mondo. In realtà quello che noi chiamiamo Somalia all'epoca era un territorio nel 1880 era un territorio diviso tra vari sultanati, alcuni autonomi, alcuni già sotto controllo inglese, la cosiddetta Puntland, lo vedete nella parte più a nord della cartina, altri invece soprattutto nella zona sud che facevano parte dei possedimenti del sultanato di Zanzibar che aveva il suo centro proprio nell'isola. Perché l'Italia guardò a questa zona? Qualcuno potrebbe dire abbiamo occupato l'Eritrea, ci spostiamo ad occupare anche la Somalia, dopo tutti i porti sono ancora più vicini all'India, insomma stiamo creando veramente un passaggio utile per le nostre navi. In realtà anche per la Somalia il motivo per cui andammo a conquistare quella colonia fu l'Inghilterra. Siamo nel 1880-1885 ancora una volta l'Inghilterra sono gli anni in cui come vi dicevo si trova troppo impegnata per poter intervenire in questa zona in questa zona però stava intervenendo un'altra potenza non la Francia che aveva allargato la sua base di Obok che aveva creato proprio la colonia di Djibouti no, stava intervenendo la Germania che in quegli anni stava intrattenendo dei rapporti diplomatici proprio con Zanzibar e l'Inghilterra teneva che presi i rapporti diplomatici con Zanzibar l'isola e tutti i suoi possedimenti potessero entrare nell'impero coloniale tedesco e che quindi in questo modo i tedeschi avessero una base per minacciare proprio la rotta dell'India come fare a risolvere la situazione? Beh, gli italiani l'avevano risolta bene al primo colpo perché non provare a supportarli anche per un secondo i primi contatti furono presi proprio con il sultano dei Zanzibar nel 1885 Antonio Cecchi venne mandato proprio a Zanzibar e iniziò ad aprire delle relazioni tra l'Italia e il sultanato relazioni che ovviamente si dovevano spartire con quelle tedesche ma che puntavano non tanto a controllo dell'isola in sé che era considerata troppo remota per essere controllata dall'Italia quanto piuttosto sul controllo di quei porti che Zanzibar controllava quei porti di quelle città nella parte meridionale dell'attuale Somalia Antonio Cecchi non riuscì in realtà nel suo intento aprì una strada ma non riuscì ad ottenere nulla di particolare molto di più riuscì invece ad ottenere il suo successore l'anno successivo infatti nel 1886 Vincenzo Filonardi riuscì a convincere il sultano ad aprirsi alla possibilità di cedere il controllo di quel territorio della Somalia meridionale a una società italiana ancora una volta gli italiani non vollero andare direttamente politicamente in Somalia ma ancora una volta si mascherarono dietro ad una società privata peraltro aperta dallo stesso Filonardi nel 1892 questa società privata tra il 1892 e il 1896 gestì la parte meridionale della Somalia proprio per conto di Zanzibar l'accordo che Filonardi era riuscito a strappare era sostanzialmente questo Zanzibar accettava di affittare quel territorio all'Italia l'Italia non avrebbe realmente controllato ma avrebbe potuto sfruttare le risorse e riscuoterne le tasse in cambio di un pagamento fisso ogni anno un affitto che era di 160.000 rupie l'Italia a sua volta affidava ad una società privata questa gestione insomma l'Italia ancora una volta piantava una bandiera ma si esponeva il meno possibile quattro anni più tardi la società di Filonardi sarà poi cancellata e sostituita da un'altra società che resisterà fino a 1902 1905 quando poi la colonia diventerà ufficialmente una colonia italiana negli stessi anni l'Italia si stava però occupando anche della parte nord della Somalia lo vedete qua dei cosiddetti sultanati di Obbia e di Migiurtina erano due sultanati che formalmente erano stati per molti anni sotto il controllo l'ottomano poi si erano progressivamente liberati e che avevano iniziato una lunga lotta l'uno contro l'altro nel 1888 Obbia e nel 1889 Migiurtina accettarono di legarsi come protettorati all'Italia era un legame che in realtà faceva molto comodo a questi sultani perché l'Italia tra tutte le potenze coloniali fu quella che offrì probabilmente le condizioni migliori l'Italia infatti propose ai sultani di occuparsi semplicemente della politica estera di quei territori di poter dichiarare che quei territori erano dei protettorati ma lasciò loro la più completa autonomia dal punto di vista della politica interna e della ovviamente della della politica economica insomma i due stati entrarono nell'orbita italiana ma tutti gli effetti rimasero completamente autonomi cosa che ai sultani verosimente andava molto bene anche perché l'appoggio italiano sarà sfruttato anche in una serie di beghe interne contro dei ribelli o contro degli stati vicini insomma grosso modo nel 1891 1892 l'Italia aveva finalmente stabilito le sue prime colonie in Eritrea era una colonia molto piccola parleremo nella prossima puntata di come questa colonia fosse poi stata ingrandita in Somalia invece era una colonia un po' mascherata un po' affidata dei privati un po' in realtà un semplice protettorato su altri stati come vi dicevo ci vorranno 15 anni buoni perché diventi una vera e propria colonia ma il movimento coloniale italiano era iniziato fino adesso era stato quasi completamente pacifico accordi diplomatici accordi commerciali supporto da parte inglese adesso però veniva al difficile perché se fino adesso la storia appunto è stata pacifica nelle prossime puntate vedremo come l'Italia per cercare di espandere i suoi domini talvolta riuscendoci talvolta no dovrà ricorrere all'uso delle armi e quindi parleremo prima della guerra contro l'Eritrea e poi nella guerra nella guerra per la conquista dell'Eritrea e poi della guerra contro Menelic due guerre che andranno in maniera molto diversa e fortemente influenzeranno il movimento imperialista italiano nella prossima puntata oltre che parlare dell'Eritrea diremo anche due parole proprio sui rapporti con l'Etiopia ma non voglio mettere troppa carne al fuoco in questa puntata che credo ne avesse già tanta spero di non essere stato complesso e di avervi lasciato i buoni spunti ora chiudo dicendo una cosa mi sono reso conto raccontando che l'impressione sia che l'Italia si sia trovata ad avere delle colonie un po' per caso non è esattamente così come vi dicevo c'erano dei movimenti interni all'Italia che quelle colonie le volevano assolutamente c'era anche un istituto l'istituto geografico italiano che era stato fondato a Firenze poi si sposterà a Roma che lavorava molto su queste possibili espansioni e c'erano grossi movimenti di opinioni che le colonie le volevano diciamo che forse l'Italia in quel momento non aveva ancora la possibilità di muoversi da sola addirittura il congresso di Berlino inizialmente non era neanche stata invitata proprio perché il suo dominio su Obbia non era neanche una vera e propria colonia ma in quegli anni riuscirà a guadagnare qualcosa proprio un po' vivendo all'ombra dell'Inghilterra sfruttando un impero così grande steso su tanti continenti per riuscire a ritagliarci il nostro piccolo angolo ma come vedremo le difficoltà furono veramente veramente tante io mi fermo qua spero che questa puntata sia stata chiara vi sia piaciuta e nella prossima puntata ripeto torneremo a parlare di guerra intanto se volete rivedere questa o altre puntate della nostra miniserie in descrizione ovviamente trovate la playlist potete anche riascoltarle sul nostro podcast anche quello ovviamente lo trovate in descrizione e per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere le loro opere e se volete iniziare a curiosare qui a fianco ci delenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia a presto ciao ciao ciao